Ciao a tutti, sono Gio. Ho deciso di creare questo tutorial perché ho avuto difficoltà a gestire una determinata situazione di stanza su Blender. Ho condiviso il mio problema con i ragazzi su Discord e nel canale Blender Low Poly e grazie all'aiuto di Davide Prestino sono riuscito a risolverlo. Questo che state vedendo è un work in progress e quando ho realizzato i denti non mi sono preoccupato della loro forma. Ho creato tante copie e li ho sistemati nello spazio 3D. Quando ci ritroviamo in una situazione del genere è possibile creare un'istanza. Questo ci permette di modificare la forma di una mesh e di conseguenza verranno modificate tutte le copie. Prima di oggi non conoscevo la copia di oggetti collegati tra loro. Infatti in questo progetto ho copiato usando la combinazione classica di tasti Shift Shift più D. Se vogliamo creare un'istanza possiamo usare la combinazione di tasti Alt più D. In questo modo faremo delle copie collegate tra loro. Editando la forma di un oggetto anche gli altri verranno modificati. Per risolvere il mio problema ho dovuto quindi separare tutte le copie facendole diventare altri oggetti. Ho resettato l'origine di ogni oggetto ed infine li ho linkati tra loro usando la combinazione di tasti Ctrl più L. Ringrazio ancora Davide e spero che questo possa esservi di aiuto.